Musica Salve a tutti gente sono Casunovante e eccoci qua su Blades of Time Spero che il nuovo format vi stia piacendo anche perchè io sto continuando a registrare dall'altra puntata Eh zia sto parlando per favore Bruta stronza Comunque io se fossi Nayumi utilizzerei tipo il potere delle tette Perchè c'ha le tette a punta Non so se l'avete notato cioè guardate Sarà puntissima Tipo a sparare il reggiseno ammazzerebbe gente di brutto State scherzando vabbè Solo teoria gente sono solo teoria Minca li odio sti qua Che col joystick non son buono io A sparare però voglio usare il joystick Tè 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 Inoltre spacco tutti i vasi perchè sono un ribelle Tè spacco Ecco nemici vaffanculo Aia 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 Sti nemici perchè sono veloci Uh però muori Uh però muori Uh però muori Aiaiaia Via 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 Poo Poo cosa sono Minchia l'hanno martoriato sto qua Micidiale Vai zia togli fuori fucile Ok aia Ok uno è andato Ciao tizio Guarda le mie mosse Ti piacciono? Ne sbatte un cazzo sto qua Fiore di merda Puoi infliggere un colpo molto forte ai nemici in fronte a te Oppure congelamento Direi prendere congelamento a me piacciono le robe elementari Così Scatto verso il nemico ti conferisce la capacità di scattare verso il nemico Molto utile contro le creature volanti Sì che lo voglio Ok proviamo sto potere com'è Però voglio un po' di nemici vicino ZY Ok fighissimo Mi piace Ciao Sono Ayumi Ok ora ci sono i nemici lì E a quanto pare ho lo scatto Allora ora puoi afferrare i nemici volanti Buono Quindi bom E poi lo posso accoltellare tipo di brutto E bom E andarmene via Pof E così colpisco anche i nemici vicini Ok Accoltella Accoltella Buono Accoltella E' fighissimo Mi piace sta roba Oh porca di una puttana Ayumi fuggi Non toccare quella roba Ti ha mai insegnato Tua madre Non lo so Non so neanche perché sono qua Quindi mi tocca ammazzare sto tizio per poter passare vari portali Vaffanculo Non gli tolgo niente Non gli tolgo niente Nemmai Ah così ok vai Vai No Ah ok così gli tolgo qualcosa forse Mai Mai che gli faccio danno Mai 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 Vai Allora sì Ok è giusto È giusto È giusto È giusto Sono un genio Uh distrutto E mo E mo E mo No scappa 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 Sei pazza Lì sotto no Però se mi avvicino mi distrugge sto Ah no ok vai Ohia Che cazzo è successo Ah ok posso scopiarlo così ora tipo No Ma non mi posso avvicinare cazzo Aia No Vaffanculo Ah quando cade mi faccio danno Nope Nope Aia Mori Vai via Ma come Ma come Che ero lontanissimo Uh Danni 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 a scoppio 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 E mo E mo E mo E mo Aia Vaffanculo Buono Aia Ma perché ogni volta mi fa danno Vabbè muori va Boh Tiè va muori Morici 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 Biatch Biatch Faffanculo E' morto Che cazzo gli manca Oh E che Cristo Grazie 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 a tutti Grazie Ce l'ho fatta Peggio di Dark Soul Quasi quasi Guardate che bella Che è Ayumi E' bello Vederti di nuovo Come ti chiami Sono lo spirito del drago Ah buono Grazie per avermi liberata Sono profondamente In debito con te Non essere frettolosa Non saresti riuscita A uscire viva Da quella caverna Senza di me Tu Mi hai salvato Ah quindi era lei Che ci ha salvato Ah possiamo utilizzare L'abilità Riavolgi tempo Perché hai dei miei cloni Ok Ok sta arrivando zia Allora Stai su uno di questi due pulsanti Quindi tipo questo Ok E poi Tipo io vado qua Così No aspetta Così E che succede? Ci permette di essere In posti diversi Nello stesso momento Ah ok Come ci riesco Grazie a Ah vedi Che risveglia I tuoi istinti antichi E la conoscenza Dei nostri Bene Vabbè mi sta finendo di parlare Però non ci interessa Proprio E ci vedremo dall'altra parte Oh buono Ok allora andiamo nel portale Wow Sculetto time No ti ci si Ti schiaccia L'altare Ah Buongiorno Altare Buongiorno anche a te Mi rispondeva tipo Buongiorno anche a te Mi sarei piegato da ridere Vediamo quali nuove abilità Possiamo avere Colpo forte E basta Infigge un colpo Molto forte E beh colpo forte Si chiama Che cazzo Perché faccio Maestria della fiamma Maestria del congelamento Colpo critico Colpo andalate Se nemici Col fuciato Rappi e furia Bte colpo forte Può infiggere un danno doppio Incantesimi fiamma Si potenzia In questo momento Ok Allora ti ho imprimuto B e poi A B A Boh Minchia Distrutto tutto Tipo Olè Distrutti tutti Stato bravo Altare Stato bravo Stato bravo Ok Buono così E direi che Continuiamo nel prossimo episodio Ovviamente Spero che vi stia piacendo Ripeto Anzi Spero che vi stia piacendo Ancora questa serie Ci si vedete A presto di nuovo qua Su un'altra avventura Di Blades of Time Spero che vi stia piacendo